L'atleta della società che ha partecipato al concorso generale in due soli attrezzi al cerchio e la palla. E anche la Dimitrova Svetoslava che è sempre della Marmara Biella che oltretutto ha fatto solo il nastro ed è entrata in finale con questo attrezzo. I tempi sono stretti ma devo dire che l'organizzazione sta serrando le fila, come si dice, forse saremo in grado di mostrarvi anche la finale del nastro. Delle quattro ottilete che vi ho detto, che parteciperanno nel Mediterraneo, cioè Cantalupi, Febbo, Gianni e Alicata, è intanto ancora una grave perdita. dell'attrezzo per la vice campionessa italiana. Grave quanto quello di Camilla Bini nella finale precedente al cerchio. È peccato per quella grave perdita con rincorsa fuori.